Musica Telespettatori ben ritrovati con l'informazione di Tele di oggi, un'azione legale contro la sua acro e possibile conflitto di interessi. Sentiamo di che si tratta. Fino a qualche settimana fa, qui in questo stabile di proprietà del costruttore Michele Muscò, c'erano gli uffici della sua acro, lo dice anche la targa che c'è ancora fissa al muro esterno degli uffici. Perché vi stiamo dicendo questo? Non vogliamo parlarvi oggi dei disagi che i cittadini di Cotone provano perché è stata spostata, al fondo Gesù, ai Granai, al complesso Il Granaio, ma vogliamo parlarvi di una cosa legale. Che cosa è successo? Il proprietario di questo stabile ha chiesto alla sua acro il pagamento dell'affitto, anche per questo periodo quando non ci sono gli uffici. Perché che dice il proprietario Michele Muscò? Dice che il contratto non è stato mai rescisso e quindi devono pagare. Tant'è che ha intrapreso un'azione legale affidando la pratica all'avvocato Giuseppe Falcone del Foro di Crotone, Giuseppina Falcone. E allora dice che qui ancora i locali non sono stati restituiti e i locali sono ancora nella gestione della società Soacro. Ma perché la Soacro sostiene di aver spostato i locali? Perché hanno fatto un'offerta e ai Granai pagano di meno rispetto a qui. Pagano di meno. C'è un dubbio in questa operazione, l'unico dubbio che c'è qual è? Fino a qualche tempo fa, non sappiamo se lo è ancora, il presidente della Soacro, Domenico Capozza, era anche presidente della società Il Granai, quindi se ancora dovesse essere lui il presidente di quella società è come se avesse fettato a se stesso da presidente i locali della Soacro. Questa è una cosa che chiariremo quanto prima. ci vogliamo capire se lui è ancora nella società Il Granai oppure è uscito. Perché se dovesse ancora essere lì da presidente della Soacro qualche piccolo conflitto di interesse ci sarebbe. Sarebbe una cosa... E resta dal fatto che probabilmente lì risparmiano nel fit, ma qui devono continuare a pagare. Questa è la questione. E chi paga? Paghiamo noi. Perché se la Soacro deve pagare anche questo affitto e deve pagare l'altro affitto del Granai, questi costi li troveremo nelle prossime bollette. Questo è il punto. Dopo le tanto contestate nomine, sanità calabrese e anche crotonese, è sempre più nel caos? Sanità è sempre più nel caos. Che cosa è successo? È successo che a Crotone, andato via Roccantonio Nostro, la sua funzione la sta svolgendo Giovanni Cozza, che è il direttore amministrativo. Giovanni Cozza, secondo quanto ci è stato riferito da alcuni esponenti della giunta regionale calabrese, non ha i titoli per fare, non è che non ha i titoli, il suo incarico di direttore amministrativo presso l'azienda sanitaria di Crotone è scaduto il 12 di luglio. E quindi, se dal 12 di luglio in poi ha firmato CART, non hanno validità. Che cosa mi è stato detto? Mi è stato detto dal rappresentante della giunta, lo dico pure che è stato, Alfonso Dattolo ha detto che la giunta procederà alle nuove nomine. Alle nuove nomine, anche se, come si legge sul Corriere della Calabria online di oggi, c'è una mezza guerra tra il generale Prezzi, che è commissario regionale per la sanità, per il piano di rientro della sanità, e la giunta regionale. Che cosa c'è scritto in questo articolo? Il generale Prezzi è pronta a emanare i decreti di annullamento delle nomine delle commissioni delle aziende calabresi, le nomine che sono state fatte dalla giunta regionale. Un atto che scatterà inevitabilmente se la giunta regionale non farà un passo indietro, revocando in autotutela quelle delibere e incriminate. Il neocommissario della sanità non ha intenzione di fare sconti, ed è possibile che dia seguito a quanto annunciato la scorsa settimana, già da mercoledì prossimo. Tra i provvedimenti da cancellare, anche la nomina fatta in precedenza dal direttore generale del Mater Domino, Antonio Belcastro, una posizione quest'ultima, più spinosa delle altre, perché il manager, a differenza dei commissari, ha già firmato il contratto relativo all'incarico. Prezzi, nel frattempo, ha già emanato due diffide, entrambe indirizzate alla governatrice Antonella Stasi. In una c'è appunto la richiesta di revoca delle delibere sui commissari, nell'altra la richiesta di annullamento delle nomine di Belcastro. Solo in caso di un nuovo no da parte dell'esecutivo, Pezzi agirà personalmente, usando i poteri molto più ampi di quelli che aveva prima scopelliti, che ci sono stati conferiti dal Consiglio dei Ministri. I sostituiti dei manager illegittimi dovrebbero essere individuati, i sostituti, nei dirigenti anziani, già presenti nelle aziende provinciali e ospedaliere. Quindi, questa dirigente anziana, Crotori, non può essere, secondo l'azienda sanitaria, secondo quanto ci è stato riferito dall'assessore d'atto, non può essere Giovanni Cozza, perché il suo incarico è scaduto il 12 di luglio. Se Pezzi sta pensando a Cozza, Cozza non può essere, non può ricoprire questo incarico, secondo appunto quello che riferisce il rappresentante della Giunta regionale. C'è il problema, qual è? Il problema è che, mentre c'è questo braccio di ferro tra la Giunta e il commissario, le aziende sono bloccate. Le aziende non vanno avanti, si può procedere con l'ordinaria amministrazione, pensate che quando ci sono i direttori generali, le risposte ai cittadini, le risposte ai cittadini non vengono date, immaginatevi ora che non c'è nessuno che comanda, siamo allo sbando più totale. La Presidente facente funzioni della Regione Calabria, Antonella Stasi, rende noto che proseguono a Crotone i lavori relativi al progetto Antica Crotone. Nel mese di novembre è previsto il completamento dei lavori di recinzione dell'intera area, circa 15 ettari, individuata per il progetto. Inoltre è stato avviato anche il secondo intervento del progetto complessivo che consiste nella realizzazione di una bonifica pilota e che diventerà attiva attività preliminare per l'intera area. Il lavoro del secondo lotto, affidato alla ditta crotonese Caterisano, consiste sostanzialmente in un primo intervento pilota necessario all'analisi preliminare del sito al fine di meglio determinare la quantità, la qualità e la distribuzione degli inquinanti, nonché per sperimentare la soluzione di bonifica individuata, i dati saranno validati dall'ARPA regionale, l'ARPACAL. Appaltati i lavori per illuminare la strada per Capocolonna, di quest'altro parliamo con il Presidente della provincia di Crotone, Stano Zurlo. Ieri è stato messo in cantiere un altro progetto, quella dell'illuminazione della strada per Capocolonna. Prima di andare via Zurlo sta cercando di fare, prima di andare via la Presidente della provincia perché scade il mandato e il 12 ottobre si rinnova con un nuovo metodo, voteranno i consiglieri comunali, due sono i candidati alla carica di Presidente, il Sindaco di Crotone e Roberto Siciliani, il Sindaco di Ciro Marino. Prima di andare via però lui vuole mettere le cose a posto per quello che può fare ovviamente, per quello che le finanze consentono. Allora, l'illuminazione per la strada per Capocolonna. Sì, come giustamente diceva lei, si sta cercando di iniziare, quindi fare iniziare quelli che sono i progetti che sono stati previsti, che noi stiamo facendo partire tutti insieme, proprio per evitare poi di far soffrire ulteriormente le aziende, perché c'è la situazione di liquidità che non consente di far partire tutti i lavori che abbiamo programmati. Allora, man mano che si crea un po' di disponibilità, allora facciamo partire i lavori. E proprio ieri abbiamo chiuso il primo tratto per l'illuminazione di Capocolonna, cioè dal bivio, quindi dove c'è l'uccello, la scultura. La rotatoria, per capire. La rotatoria fino a Capocolonna sarà un primo tratto e poi è previsto in bilancio anche il tratto diciamo dalla Casa Rossa fino a su e poi però proprio per evitare di dover dare un appalto diciamo di una certa entità e che quindi avere poi difficoltà a pagare i sal alle aziende diciamo si sta procedendo in questo senso, sarà un progetto efficientemente energetico che consentirà anche di risparmiare il 35%, mi hanno spiegato gli uffici sull'energia e intanto si dà una prima risposta alla parte diciamo che più abitata. Però in previsione... Quella che ha più bisogno di illuminazione se vogliamo fino in fondo, no? Allora, tutto avrebbe bisogno di illuminazione perché è bella diciamo la salita fino all'irto però dovendo, non potendo far partire tutti insieme abbiamo diciamo deciso e preferito fare la parte abitata perché ci sono anche delle abitazioni e useremo e mi sembra un criterio pure giusto. Quando partono i lavori e quando dovrebbero finire? No, dovrebbero partire intorno al 4-5 ottobre e penso che questo primo tratto si dovrebbe fare quindi per fine mese sarà pronto, io non ci sarò però... Non sarà lei ad inaugurare però ci sarà lo stesso insomma. Certo, certo, allo stesso modo stanno partendo, consegneremo in settimana prossima sia la nuova palestra di Strongoli con l'intervento che è stato fatto e anche il centro di aggregazione a Palazzo Milone, il primo pezzo di Palazzo Milone che sarà dato alle associazioni proprio per i ragazzi di Crotone per fare musica. Ci sono anche tanti altri progetti che però pronti ma che non appaltiamo proprio per evitare di creare un cortocircuito, un ingolfamento di lavori e poi anche di pagamenti. Non ci sono i soldi, i soldi non ce ne sono. Come farete a pagare lo stipendio di settembre? No, allora noi abbiamo come ente un problema di liquidità. I fondamentali di bilancio sono sufficienti, sono discreti, pur nella complessità di un ente che ha avuto praticamente azzerato i trasferimenti. Abbiamo tanti crediti che alcune volte faticano ad arrivare ma non crediti, diciamo, da private. Abbiamo crediti con lo Stato centrale, abbiamo crediti con la Regione, abbiamo crediti con i comuni del circondario. Quindi noi abbiamo un problema di liquidità e man mano che incassiamo questi soldi andiamo avanti. No, io penso che questo mese, i primissimi di ottobre, si pagano gli stipendi perché dovrebbero arrivare delle cifre certe dalla Regione e poi ci sarà una tranche della transazione che abbiamo fatto col parco eolico Pitagora. Però questa volta abbiamo preferito, diciamo, chiudere o dare delle anticipazioni da alcune imprese che stavano aspettando da molto tempo e scavallare il 30 settembre per poi pagare il 2 ottobre. Più o meno saranno i primissimi di ottobre, verranno fatti i mandati per il personale. Il problema sarà l'altro mese, la fine dell'altro mese. Beh, diciamo che noi siamo quasi due anni che stiamo andando un po' avanti alla giornata man mano che questi crediti maturano. Fino adesso abbiamo, diciamo, praticamente onorato tutti gli impegni, stiamo pagando la rata di mutuo che scade il 30 settembre ed è già coperta quindi non abbiamo rate di mutuo non pagate e bisogna andare a vedere giorno per giorno arrivano dei soldi, si recuperano dei crediti e si va avanti, diciamo così. Da due anni la situazione è stata un po' questa, mese per mese, però ogni mese siamo riusciti a pagare quindi mi auguro che chi ci sarà riuscirà con difficoltà perché le difficoltà le abbiamo avute noi e le avranno, lo avrà chi mi succederà. Però con applicazione, con intelligenza, con capacità di discernere i pagamenti da fare io penso che si possa andare avanti. Si va avanti, insomma, i fondamentali di bilancio sono buoni. Poi bisogna vedere questo decreto attuativo se trasferirà personale, se lo farà, se non la farà, quindi alla fine gli enti dovranno anche ridurre delle spese ma la gran parte delle spese dell'ente provincia è dettato proprio dalla spesa del personale che è una spesa, come dire, incomprimibile perché sono diritti dei lavoratori e non è che non si possono pagare o si possono tagliare gli stipendi. Quindi purtroppo è stata fatta una riforma che adesso è rimasta a metà perché da una parte hanno levato tutti i trasferimenti, dall'altro almeno 100-120 dipendenti della provincia che dovevano essere destinati alla regione e ai comuni, in realtà ancora ce l'ha la provincia e ogni mese bisogna pagare gli stipendi. Ieri mattina presso gli uffici della segreteria generale della provincia di Crotone si è riunita la commissione elettorale provinciale composta da Ernesto Luigi Scalise, segretario generale, Silvana Corrado, dirigente, Carmine Domenico Lucia, con funzioni anche di segretario verbalizzante. Alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati si è proceduto all'assegnazione tramite sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente della provincia e a ciascuna lista di candidati a consigliere provinciale ammessa. Scritti i nomi dei due candidati a presidente della provincia, messi su altrettanto foglietti di uguali dimensioni piegati in quattro, questi ultimi sono stati inseriti in un'urna ben mescolati, dopodiché l'addetto stampa della provincia di Crotone giornalista Massimo Carlozzo, è estratto i biglietti in quest'ordine numero 1 Peppino Vallone, numero 2 Roberto Siciliani. Subito dopo è stato effettuato il sorteggio delle liste che risulta il seguente, 1 provincia di Crotone prima di tutto, 2 partito democratico, 3 per una nuova provincia, 4 provincia. Prima delle operazioni di sorteggio la commissione elettorale ha provveduto all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, sedute nel corso delle quali sono stati ammessi tutti i documenti presentati, la commissione ha deliberato di ammettere la candidatura a presidente della provincia di Peppino Vallone e di Roberto Siciliani nonché le quattro liste, copia del verbale redatto in un unico originale depositato presso la segreteria generale della provincia di Crotone, è stata trasmessa al presidente della provincia di Crotone Stanozzurlo, al prefetto della provincia di Crotone Maria Tironi e al procuratore della Repubblica Raffaele Mazzotta. Nell'ambito del processo insula che vede coinvolta anche l'ex sindaco di Isola Caporizzuto Carolina Girasole potrebbero esserci e tra tanti risvolti, sentiamo cosa è successo nell'udienza che si è tenuta ieri presso il tribunale di Crotone. Se quello che ha detto ieri e che viene riportato oggi dal quotidiano della Calabria, quello che ha detto ieri durante il processo Massimo Arena, figlio del boss Nicola, se dovesse essere vero beh siamo su scherzi aperti. Che cosa ha detto Massimo Arena, ripeto che viene riportato oggi dal quotidiano? Per ciò che attiene mio fratello Pasquale, che non è quello che lavorava che lavora al comune di Isola Caporizzuto, posso solo dire che la frase intercettata dalla guardia di finanza 300 voti non è stata esattamente compresa e trascritta. Lui infatti stava parlando di un altro politico di senso maschile e non della Girasole e disse 300 volte indicando un andere e viene da Crotone non un numero di voti. Allora quindi la Girasole, secondo quello che dice questo Massimo Arena, il figlio del boss, non ha commesso il reato di voto di scambio. Perché l'intercettazione telefonica che riguardava appunto Pasquale Arena non era rivolta, non era l'oggetto di quella intercettazione, non era l'ex sindaco Girasole ma l'attuale sindaco Bruno Gianluca Bruno. Questo davvero, siamo arrivati a una cosa tragica perché se dovesse essere vero la Girasole si è fatto molti mesi di carcere anche se ai domiciliari per questa vicenda. Ma sul piano personale, sul piano individuale la Girasole è stata distrutta da questa vicenda. E allora è vero che le intercettazioni telefoniche bisogna stare attenti a quanto si fanno chi li sbobbina. Perché mettere una parola sbagliata rispetto a un'altra parola, qui si distruggono le persone, si distruggono le persone e nessuno ha il diritto, nemmeno le procuro antimafia hanno il diritto di distruggere le persone e commettere questi errori grossolani. E commettere questi errori grossolani. E allora quindi che cosa ha detto Massimo Arena, il figlio di Poste Nicola. L'attuale sindaco di Isola Caprosotto Gianluca Bruno si riferiva. Quello che all'elezione della primavera del 2013 ha battuto l'uscente Carolina Girasole, sotto accusi insieme agli Arena, nel processo Insula, anche per voto di scambio politico mafioso. Davanti al Tribunale Penale di Crotone si legge nel quotidiano di oggi, al termine di un'udienza caratterizzata da scremaglie tra accuse e difese in relazione all'acquisizione di mezzi di prova, Arena, chiedendo la parola, fatemi sfogare in carcere si muore, ha fatto riferimento espressamente a Bruno, nell'esplicitare il reato a suo dire significato di un brano intercettato il 27 ottobre 2010, un riferimento forse alla competizione provinciale del 2009, in cui Bruno risultò eletto, fu anche nominato assessore, il figlio dello storico Boss ha denunciato un altro errore, più che assessore è stato nominato vicepresidente dalla loro giunta provinciale. Un errore di interpretazione e di trascrizione dalla telefonata perché io non ho detto mai le parole mille voti e l'accusa che viene rivolta a Girasole, alla Girasole di aver, l'affiliato diceva abbiamo garantito mille voti, ma la vera frase pronunciata il 24 ottobre è stata un'altra vota, un'altra volta, che riguarda un'altra intercettazione chiave dell'inchiesta, quella che suffragherebbe l'impegno elettorale del clan per la Girasole. La dottoressa Girasole più volte è stata vittima di atti intimidatori. Questi fatti contraddicono di per sé un eventuale accordo con mio padre, ritenuto bossa picale, che quindi, quindi lo dice il figlio del boss, che quindi in virtù del presunto accordo non avrebbe di certo acconsentito. Non sono un affiliato mafioso, ha aggiunto ancora l'imputato, di ieri il figlio del boss, con tutti i pentiti, allora, non sono qui, ha protestato ancora l'imputato dicendosi disponibile al confronto con tutti i pentiti del mondo e richiamando a suo sostegno le rivelazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio, che fa dichiarazioni in senso contrario. Quindi siamo di fronte a che cosa. O qui mentono tutti, oppure siamo di fronte al dramma di una persona, quella della Girasole, che ha subito per mesi in silenzio l'onta di essere accusata di vota di scambio e del carcere domiciliare, e degli arresti domiciliari. In arrivo la rimodulazione delle tasse per i cittadini crotonesi. Ne parliamo con il Presidente della Commissione Bilancio al Comune di Crotone, Sergio Ritale. Tari, Tasi e chi più ne ha più ne mette sono le nuove tasse che il Consiglio Comunale dovrà approvare nella prossima seduta. È stato convocato per il 29 di settembre, in prima convocazione, in seconda convocazione il 30. Noi parliamo su questi aumenti, ne parliamo con il Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Crotone e Sergio Ritale. In Ritale, momenti terribili aspettano gli italiani, non solo gli abitanti di Crotone, gli italiani stanno arrivando al pettine, tanti nodi che portano tante tasse. Certamente è un momento molto brutto, molto terribile, ma c'è anche un aspetto positivo della vicenda, secondo me, perché questo trasferimento dell'imposizione centrale dello Stato che è trasferita ai Comuni dovrebbe compensare un po' quello che lo Stato non invia più in termini monetari ai Comuni. Quindi dando la possibilità ai Comuni di avere questa autonomia impositiva. Questo che cosa significa? Che i Comuni dovrebbero attrezzarsi meglio, perché intanto per un fatto molto positivo che io condivido pienamente, che chi fa pagare le tasse poi ne risponde direttamente alla qualità del servizio che dà al cittadino. Deve essere secondo lei un rapporto tra le tasse che il cittadino paga e il servizio che percepisce. Quindi è giusto che chi applica le tasse poi se ne assume in pieno la responsabilità, perché se io faccio pagare un'imposta per un servizio qualsiasi e poi quel servizio non è efficiente, non è produttivo, non è di qualità, il cittadino quindi giudica il sindaco, l'aggiunta e il Consiglio Comunale per un servizio che è scadente, diciamo così, rispetto all'importo che ha chiesto. Quindi io credo che sia un vero assaggio di federalismo che lo Stato in questa situazione abbastanza delicata per l'economia non soltanto italiana ma di tutto il mondo, mette a disposizione degli amministratori. Gli amministratori in questo caso devono dimostrare di essere all'altezza del compito, quindi non si passa il tempo soltanto voglio dire a dire che il governo ha obbligato, il governo ha obbligato a dire questi soldi io non te li mando perché io le mani in tasca ai cittadini e le metto di meno per quanto riguarda i servizi locali ed è giusto che lo faccia il comune interessato. In questo caso il comune interessato quando lo fa lo deve fare sapendo che poi ne paga le conseguenze direttamente, per cui rispetto all'applicazione della tariffa se fornisce un servizio che non è all'altezza del compito sarà giudicato per questo. Quanto aumenta, al di là di questa questione di principio che sono legittime, quanto aumenta per i cittadini? Avete già conteggiato la Tassi? È stata decisa di non aumentare più dell'1 per 1000 nel precedente Consiglio Comunale, adesso dovete ratificare. La mancata non si è tenuta e qui adesso ritorna con un vincolo che non può essere aumentato e quindi è l'1 per 1000 il minimo che si poteva fare. La Tari invece che la spazzatura? Per quest'anno c'è un obbligo, per la verità anche negli anni precedenti è cominciata questa nuova disposizione legislativa che il costo complessivo del sistema dei rifiuti deve essere a carico di tutti i cittadini. Quindi se il Comune di Cortone spende per questo servizio 9 milioni, 10 milioni insomma... E' la cifra più o meno questa che costano le aziende che fanno la raccolta e poi c'è da aggiungere lo smaltimento dei rifiuti in discarica, no? C'è il conferimento in discarica e c'è anche per la prima volta quest'anno che l'impiego delle risorse umane che il Comune impiega, scusando il bisticcio delle parole, per quanto riguarda la struttura analitica della tariffa sui rifiuti va anche questo commisurato. Questo che cosa significa? Che se l'amministrazione mette in campo un servizio di qualità, e questo servizio di qualità oggi non dipende soltanto dal Comune ma dipende dalla solita vicenda, no? Della spazzatura che va tutta nelle discariche oppure nell'inceneritore, quello che sia, se non si mette in campo nuovi sistemi e questo... La differenziata, stiamo parlando di differenziata e di altro. Non soltanto la differenziata, ma anche il recupero e il riciclo del materiale che va a rifiuto. Se da quest'anno, così come sta facendo l'amministrazione comunale, pensando un po' a una rivisitazione dei soggetti, ACROS ed ACROS, che dovranno mettersi insieme salvaguardando quelle che sono le misure occupazionali, perché in questo momento non si può fare nessuna rivisitazione di queste strutture se non si pensa anche alle persone che ci stanno lavorando lì dentro. Per cui possono essere impiegate per questo e per altri servizi ancora. Ma il problema vero qual è? È che il sistema... Il sindaco dice che ogni comune, se l'ACROS si scioglie, ogni comune dovrà farsi carico dei propri dipendenti, il comune di Crotone si fa carico dei crotonesi e gli altri comuni si devono far carico degli altri, no? Veramente io andrei oltre su questa questione, ma comunque non è questo... Per ritornare un po' alla domanda che lei ha fatto, la situazione adesso sta in questi termini, noi dobbiamo applicare una tassa pari al costo del servizio, il costo del servizio è quello storico, allora se si mettono in campo strategie nei prossimi anni così come nell'intenzione del soggetto unico al quale il comune ha affidato il servizio e se questa operazione si sta facendo, è chiaro che nei prossimi anni i cittadini pagheranno di meno perché la raccolta, il sistema sarà più efficiente e quindi il cittadino pagherà di meno. Presidente, andiamo al dunque, quanto pagherà il cittadino, pagherà di più rispetto all'anno scorso, quest'anno il cittadino di Crotone? Guarda, io dai primi dati che ho, perché mi sono stati consegnati ieri, non mi pare che ci sia questo aumento, oggi ci sarà la commissione dove noi verifichiamo, quindi già noi nel pomeriggio di oggi noi sapremo se c'è una proposta di aumento delle tariffe o meno, da quello che io ho visto non mi pare che ci sia un aumento. Ma forse vanno in pareggio quelli che hanno solo due, una famiglia composta da due persone, già di tre persone un piccolo aumento e poi l'aumento a quattro, cinque... Io le posso dire qual è la mia opinione da amministratore, è che quando si applicano le tariffe e quando si applicano tasse imposte, la prima cosa che si dovrebbe fare secondo me, una volta avuto il costo complessivo, è quello di non applicarla in modo uguale a tutti i cittadini, perché si dice che i cittadini sono tutti uguali, ma i cittadini sono uguali forse soltanto di fronte alla legge e certe volte non è nemmeno così. Allora se io devo applicare la tassa, facciamo il caso di 300 euro all'anno, a un cittadino che è proprietario di una casa di 100 metri quadrati e... Una villa di 3.000 metri quadrati? No, no, mi pare normale che questo faccia la differenza rispetto alla superficie di metri quadrati. Però se due cittadini hanno una casa con la stessa superficie e hanno entrambi lo stesso reddito, mi pare che la tariffa deve essere uguale per tutte e due. Ma se uno dei due dovesse avere qualche figlio in più e non dovesse avere reddito, secondo lei è normale che un amministratore misurato faccia pagare a questi due cittadini la stessa cifra? No, però c'è anche il rischio che l'evasore paga di meno. Io sto parlando di quelli che pagano, poi c'è un problema di evasione e su questo c'è in campo... L'evasore fiscale, chi non indicare i propri redditi, c'è il rischio che se applichiamo questa regola l'evasore, il ricco evasore, paga di meno di chi... I ricchi evasori sono in misura molto ridotta rispetto a quelli che oggi soffrono e che non hanno reddito oppure che hanno redditi minime. Quindi mi pare che tra le due cose si deve cercare la migliore, perché non c'è mai in una logica di imposizione fiscale non c'è mai la via migliore, perché noi non abbiamo un sistema attraverso il quale riusciamo a colpire tutti. Perché per esempio non c'è un'anagrafe di tutti i cittadini e compresa anche gli evasori. Qui c'è il rischio che ci sono evasori totali, gente per esempio che non ha accatastato l'appartamento e che quindi non paga nulla. Però io le posso garantire che noi abbiamo fatto delle proposte concrete e noi questo lo sentiremo al prossimo consiglio comunale perché il Comune di Crotone è in grado anche di intercettare quelli che non hanno mai pagato. Allora in questa logica io credo che il Comune di Crotone nel prossimo consiglio comunale possa dimostrare di essere all'altezza del compito perché l'applicazione di una tariffa non è un fatto automatico. Cioè che io premo un bottone a tutti quelli che sono alti un metro e settanta io faccio pagare la stessa cifra. No. Allora per quello che mi riguarda l'imposizione vista dallo schienamento politico nel quale io mi ritrovo pensa sempre, così è nella sua cultura, di andare a individuare quale sono le sacche elusive e poi di diminuire le diseguaglianze tra persone. L'ho già detto una volta un po' questa frase che quando si divide una torta in parte uguale tra gente disuguale cioè non è un criterio di eguaglianza. Cioè se uno ha mangiato per 25 giorni su 30 e uno per un mese non ha mangiato nemmeno una volta la carne mi pare normale, scusi la banalità della metafora. Mi pare che questo per uno che si riconosce nei valori del centrosinistro mi pare che questo sia il compito principale. Ed ora il pungiglione in via Vittorio Veneto a Crotone. Fogne a cielo aperto, sgorgono a cielo aperto le fogne nel corso principale di Crotone in due punti, ci sono due pozzetti qui. Come vedete è da tanto tempo perché ormai si è bagnato tutto, c'è una puzza davvero incredibile. Speriamo che intervengano subito con lo spurgo perché queste sono fogne. Non si sfugge, la puzza è da fogna. È la sgradevole puzza da fogna che colpisce le narici dei cittadini che passano. Non è uno spettacolo decente. L'acqua arriva tra poco, se continua così, fino al municipio. L'intervento ancora non c'è stato. Il 25 settembre Loris Rossetto, fondatore e presidente dell'Associazione Culturale Amici del Tedesco a Crotone, è stato insegnato dal Cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania. Alla cerimonia, nella residenza dell'ambasciatore, erano presenti amici e partner italiani e tedeschi, nonché la famiglia del signor Rossetto. L'ambasciatore alla consegna dell'onorificenza, ha detto, il signor Rossetto rende ormai da anni, con un impegno istancabile e coinvolgente, un eccezionale tributo alla promozione della lingua e cultura tedesca, soprattutto tra i giovani. Lo fa con creatività, energia e gioia di vivere e gode, pertanto di grande apprezzamento e rispetto da parte dei suoi collaboratori, amici e partner. Per il suo straordinario impegno a favore dello scambio italo-tedesco, il signor Rossetto è stato insegnato dal Cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania e io sono molto lieto di consegnargli ora questa onorificenza. Stamattina, presso il Teatro Apollo di Crotone, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della stagione sinfonica 2014-2015 a cura dell'Orchestra Regionale della Calabria, Paolo Serrau. Per la prima volta in Calabria e a Crotone ovviamente c'è una stagione sinfonica, si tiene una stagione sinfonica, parte appunto da Crotone, ne parliamo con il maestro Mario Leotta. Sì, la stagione sinfonica è nata da un'idea in famiglia che ha preso piede lo scorso anno, quindi con la nascita di questa orchestra regionale, proprio perché in Calabria non c'è un orchestra regionale di riferimento che lavori in maniera stabile, quindi la prima stagione durerà 7-8 mesi, questo sarà per 3 anni, quindi. Per questo avete detto 2014-2015? Sì, perché va a cavallo, poi 15-16, 16-17 intanto per 7-8 mesi, dopodiché si punta a diventare un'istituzione concertistico-orchestrale, quindi lavorando 12 mesi l'anno. Cosa prevede la stagione di quest'anno? La stagione di quest'anno prevede dei concerti e quindi una programmazione di ampio respiro per cercare di coinvolgere il più pubblico possibile. Sicuramente musica colta, vi aspettiamo, l'inaugurazione sarà a novembre e poi andremo avanti fino a maggio. Prima rappresentazione quindi quando è prevista? 19 novembre. 19 novembre, sì, al Teatro Apollo. Tutto il Teatro Apollo. Tutto si svolgerà al Teatro Apollo. L'orchestra regionale della Calabria, Paolo Serrao. Paolo Serrao. L'altra iniziativa importante è praticamente questa che viene presentata oggi ed è la stagione sinfonico concertista. Domani sabato 27 settembre alle 10.30 presso la sala Paolo Borsellino della provincia di Crutone, incontro pubblico promosso dal Movimento 139 Calabria Attiva verso la nuova provincia tra contraddizioni legislative e opportunità di governo. Poco nuvoloso, visibilità ottima, vento di 16 nodi, il tempo previsto per domani su Crutone e provincia, bollettino unautico del Marrionio, tempo a vento da nord a forza 6, rinforza 8 e temporali in attenuazione, visibilità discreta, localmente cattiva in aumento, maie mosse in aumento, tendenza, vento da nord a forza 8, sereno, poco nuvoloso. Bene, ho terminato. Grazie per l'attenzione. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.